Voi avete in casa 67.000 euro in contanti, perché la Guardia di Finanza le ha appena trovati tra l'abitazione e sedi di alcune imprese a lui riferite a un dirigente dell'ATM, l'azienda trasporti milanesi, l'azienda pubblica che gestisce il trasporto pubblico di Milano, migliaia di dipendenti, centinaia di milioni di fatturato. 67.000 euro che, a detta degli inquirenti, riguarderebbero presunte tangenti e presunti appalti truccati in un'inchiesta che ha portato ad oggi a 13 arresti e che ha contestato, udite bene il tipo di reati, riguarda un'indagine, 8 gare d'appalto per un totale di 150 milioni, stiamo parlando delle aziende di trasporto milanesi, i reati contestati agli indagati sono associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, peculato e abuso d'ufficio, reati gravissimi con intercettazioni che sono a dire poco scandalose, addirittura in una questo funzionario Paolo Bellini, responsabile, come abbiamo detto, degli impianti di segnalamento e automazione di ATM. A un certo punto direbbe delle frasi come, per essere beccati, e si riguardava alla falsificazione di alcune stampigliature di un cavo proprio per impianti di segnalamento e di automazione dei treni delle metropolitane, dice, per essere beccati deve scoppiare un incendio o bruciare tutta la galleria, quindi facciamo tutte queste porcherie. Ma il punto qual è? Oltre allo scandalo per cui si dovrà intervenire in ATM, io spero che caccino tutti quelli che direttamente o indirettamente hanno avuto a che fare e quindi non hanno controllato a sufficienza un qualche cosa che dalle indagini sembrerebbe, da questo articolo, sembrerebbe addirittura risalire a lontano 2006. Spero anche che il sindaco Sale intervenga. Mi viene anche da pensare che se tutto fosse accaduto a Roma con la società pubblica di trasporti romano non oso pensare cosa sarebbe piovuto addosso la sindaca Raggi, che certamente sarebbe stata definita come la responsabile politica di tutto questo scempio, di tutto questo schifo. Ma perché ho fatto questo video? Non solo per informarvi, ma anche per dirvi che se oggi abbiamo beccato questo signore dichiarare queste nefandezze qua, a cui sono stati trovati 67 mila euro in contanti e su cui è intervenuta la magistratura, è semplicemente grazie al Movimento 5 Stelle che a fine 2018 ha approvato una legge, il decreto spazza corrotti, di quel ministro Bonafede tanto attaccato a parte del centrodestra, in particolare da Salvini, che lo voleva sfiduciare in Parlamento e non c'è riuscito, perché è inserito tra le tante cose nello spazio a corrotti, oltre ad un aumento di pena per i corrotti e i corruttori, anche un Trojan, che è un virus che viene inoculato nel telefonino e prima poteva essere inoculato solo negli indagati per reati gravissimi di terrorismo e di mafia e ora, grazie al Movimento 5 Stelle a Bonafede, anche per i reati contro la pubblica amministrazione. Quindi grazie a questa modifica di legge, questa nuova legge, il signor Paolo Bellini e tanti altri sono stati intercettati grazie a questo virus informatico inoculato nel telefono e in altri accessori elettronici. Quindi questo che cosa significa? Significa facciamoci un plauso, perché grazie al Movimento 5 Stelle assolutamente oggi si è potuto prendere, beccare questi soggetti e far aprire, portare avanti un'inchiesta su un qualche cosa che sembra a dir poco sconvolgente. Quindi alla faccia di quelli che dicono che con il Movimento 5 Stelle non si portano a casa risultati, che il Movimento 5 Stelle è uguale a tutti gli altri partiti. Con il Movimento 5 Stelle si portano a casa risultati e come? E non siamo per niente uguali agli altri partiti perché continuiamo a lottare affinché la legalità e l'onestà tornino di moda, non solo in politica ma anche nella pubblica amministrazione.